Come ti senti? Mi sento davvero bene. Mi sento una buona Ruta del Sol, mi sento che il formaggio è davvero buono e abbiamo una squadra forte qui e mi sono felice di essere in Italia. Il primo testo importante nel team time trial contro Etics, contro Movistar. Sei il team World Champions, cosa aspettate? 22k, non è così tecnico, quindi non credo che i tempi saranno enormi. Ma abbiamo sicuramente una squadra molto forte per il team time trials. Siamo i World Champions, quindi vogliamo rappresentare questo titolo bene. E credo che possiamo arrivare a domani. Se tutto va bene, abbiamo una vincita e un'avventura per i nostri rivali. In Andalusia hai detto che stai bene, ora in Tirreno, ma stai contro Valberde. una sorta di rivoluzione dopo l'Andalusia? Non lo vedo in questo modo, non lo vedo come rivoluzione. Credo che abbiamo sbagliato per una vittoria qui e ora siamo sbagliati per una vittoria qui. Questa è una rivoluzione diversa e non ho nessuna vittoria per l'Alejandro. E' un'impressiva vittoria che ha fatto in Andalusia. Ma questo è nel passato adesso. Siamo qui e sto rivoluzione contro Alejandro, Vincenzo e Parito. Tutti ci saranno una competizione molto difficile. Che rivoluzione dovresti fare? La Vuelta a Cataluña. Grazie. Grazie.